...britanniche, spagnole e di Gibilterra, non ce n'è neanche una che batta bandiera italiana e arrivano tutti in Italia. Ci sarà da lavorare, avete ben compreso che ci sarà da lavorare. Ringrazio le forze dell'ordine tutte per quelle che hanno fatto, ringrazio questure prefetture che sto trovando di assoluto dinamismo e ringrazio due lavoratori che penso avrebbero preferito essere altrove e non qua oggi pomeriggio, però hanno fatto il loro dovere, invito tutti a non avere paura, a continuare a fare il loro dovere e vedremo di essere di settimana in settimana non più cattivi ma più giusti nei confronti dei delinquenti, ripeto, giusti nei confronti di quel 6% che scappano davvero dalla guerra, severi nei confronti degli altri che non scappano dalla guerra, settimana prossima incontrerò o avrò contatti telefonici con i ministri degli interni di alcuni paesi importanti, Francia, Austria, Olanda, Belgio perché voglio che l'Italia torni protagonista.